Il popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. La rovina dell'umanità sono certi film, film di violenza, film di pornografia sono la rovina dell'umanità. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginotto. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano. Di cambiare, di cambiare. C'è assolutamente speranza nella questa città, è finito tutto. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini. Io vi auguro la pace, signor Presidente, per questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita. E se vogliono venire a uccidere, allora queste signore, vogliono venire a uccidere a me, me ne vado con mio figlio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.